Salve a tutti ragazzi, pepe ruzzorbente e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Terraria 1.2 gameplay Non mi ricordo il numero dell'episodio, comunque L'altra volta avevamo battuto il Brain of Tullus Tullus, stavo per dire il Live of Tullus, vabbè non importa E diciamo ragazzi che l'ho battuto un'altra volta e mi ha droppato Oltre alle solite cazzate, aspetta, si era qui Altri Klim Tenor, Tissue Sample che servono per fare i picconi con l'altra cazzate qui Facciamo qui il sacco, almeno 238 di Klim Tenor, ecco E' una Brain of Tullus Mask, eccola qua, ve la faccio vedere E' diciamo simile alla Eye of Tullus Mask, solo che appunto è per il Brain of Tullus Non è niente di speciale ragazzi, non la indosserò perché mi fa il quanto cagare Per cui la terrò semplicemente qui, come appunto tengo sempre le maschere qui Perfetto, allora qui lasciamo sia le vertebre sia questi Bloody Spine Che avevamo craftato tempo fa, per appunto, no tempo fa In realtà un episodio fa per appunto sconfiggere il Brain of Tullus più volte E vediamo un po' ragazzi Oggi dovevamo prepararci per la battaglia contro il Wall of Flash Che è il boss che appunto fa passare dalla hard mode Insomma dalla pre-hard mode alla hard mode E sono due modalità di gioco diverse, ve l'ho spiegato nello scorso episodio Nell'hard mode praticamente una modalità di gioco molto più difficile dove i mob cambiano Da bioma a bioma praticamente ci sono nuovi mob Molto molto più feroci naturalmente perché siamo passati nell'hard mode Quindi siamo a un livello superiori Per poter evocare questo Wall of Flash serve assolutamente diciamo una Voodoo Doll La Voodoo Doll è praticamente una bambola Voodoo appunto Che se buttate nella lava vi evocherà questo Wall of Flash Di solito almeno mi ricordo si trova diciamo nei demoni Con i demoni perché i demoni a volte portano questa Voodoo Doll addosso Per cui ragazzi bisogna per forza andare nell'underworld per poter diciamo prenderla Io ancora non ce l'ho, non ho trovato nemmeno un demone con questa Voodoo Doll Quindi suppongo che sia abbastanza difficile trovarla Trovare soprattutto un demon insomma che porti la Voodoo Doll con sé Ucciderlo e stare attenti che la Voodoo Doll non cade Non appunto non Non caschi nella lava Perché se no ragazzi evocherà il Wall of Flash E se uno non è preparato siamo finiti Allora Wall of Flash sarebbe in italiano il muro di carne E diciamo appunto un boss che ti segue, ti insegue ragazzi Perché è grosso quanto tutto il, quanto tutto appunto lo schermo Ti seguirà quindi noi dovremo andare sia a destra o a destra o a sinistra In questo caso insomma andremo verso la destra almeno mi sembra Almeno, almeno credo, non lo so Dobbiamo vedere un po' anche da che parte spawna Quindi ragazzi allora Un boss dove non dovremmo solamente attaccarlo Dovremmo anche scappare da lui Perché se ci tocca diciamo ci fa un bel danno Quindi adesso vi spiego un po' Allora fate conto che alla mia destra si trovi un muro gigantesco di carne che mi insegua Quindi io devo scappare verso di qua no? Quindi ragazzi cosa ho avuto io? Vedete che qui c'è un sacco di lava Quindi è un, vedete, è già un problema stare in piedi qua Dovrei, mentre scappo, attaccare pure Quindi cosa ho pensato di fare? Non è una strategia naturalmente come ho inventato io Ma diciamo che molti youtuber l'hanno utilizzata appunto per comodità È una strategia abbastanza comoda Ovvero quella di creare una piattaforma gigantesca Che attraversi tutte le case e tutto l'underworld Per un punto Cioè da un punto fa conto Da, che ne so, se non lo facciamo spawnare Non lo so Qui, per esempio, dovremmo fare una piattaforma che conduce fino a qui O forse un pochino di meno, sì, forse un pochino di meno Oppure potremmo semplicemente fare questa piattaforma dove non ci sono le case anche per comodità Quindi per esempio partire da qui ed arrivare fino a qui Non lo so, forse un pochino di più Giusto per comodità, dato che siccome lì non ci sono le case Non dovrei, insomma, bucare tutte le case che ci sono Tutti questi palazzi che ci sono perché sono molto molti E appunto oltrepassare Oltrepassarli con questa piattaforma È davvero un lavorone questo Non so come farò Penso proprio che lo farò Svilupperò la piattaforma qui dove non ci sono le case Mi scivorrò un pochino per arrivare qui Ma molto probabilmente creerò un tunnel Vediamo un pochino dove conduce Ecco Vediamo un po', ecco Qui all'incirca dove ci sono gli oceani Bene, vabbè Chi se ne frega, ok, allora vedrò un pochino come fare Bene Dobbiamo trovare però questo voodoo doll Questo voodoo demon Quindi dobbiamo trovare proprio un demon Cosa facciamo noi? Allora praticamente ragazzi Io tornerei a casa Tanto ci metto un secondo a ritornare E prenderei e mi crafterei Anzi una battle potion Una battle potion Una battle potion non è altro che una pozione Che incrementa il numero di spawn dei nemici Quindi ragazzi farà spawnare più nemici E in questa maniera è più probabile Che appunto un demon Appaia un demon con la cosa Con la voodoo doll appresso Quindi ragazzi cosa facciamo? Innanzitutto volevo liberarmi dei soldi Quick stack, eccolo qui Adesso non mi ricordo bene Se ce l'ho già questa battle potion Ma mi sembra di sì, eh Perché forse me l'aveva droppata qualcuna Vediamo un poco Allora, dovrebbe essere una pozione viola Non è questa di sicuro Questa lo uniamo, no? Non è possibile unirle Questa è gravitation Ecco, mi confondo Healing potion No ragazzi, perfetto Non ce l'ho Quindi la dovrei craftare Un attimino che vado a vedere come si crafta Ok, perfetto Ho visto come si crafta Naturalmente servirà una bottiglia d'acqua Come sempre Quindi andiamo a pozioni Quindi la prendiamo una bottiglia d'acqua Ah sì, ce l'ho una bottiglia d'acqua Eccola qui Ne crafto due però Vai di cose Allora, vediamo un po' Poi serve una Vediamo un po' Un drop Di mostro Serve Due rotten chunk Ecco perché devo fare due Oppure due vertebre Anche due vertebre vanno bene Ma prendo rotten chunk Perché ne ho di più E poi prendiamo una death weed Una death weed Death weed Dov'è? Questa perché c'è un armor Red natural gift qua? Non lo so Va bene Comunque non importa Una death weed Non la trovo Eccola qui Perfetto Queste due death weed Perfetto Allora, andiamo a pienare d'acqua Un'altra bottled water Un'altra bottiglia Insomma Eccola qui La prendiamo Poi andiamo Nell'alchemy station Quindi in un vaso Qualsiasi cosa Qui Dove ci sono i miei Due adorati vasi Apriamo Ecco qua Due battle potion E diciamo Aumenta Gli enemy spawn rate Quindi lo spawn rate E dei nemici Bene Quindi le mettiamo qui Siamo abbastanza armaturati Io penso di sì Per poter affrontare Diciamo un'armata Di nemici Nell'underworld Noi ci rivediamo La attiverò La pozione E molto probabilmente Velocizzerò Per appunto Prendere Questa voodoo doll Che oggi Insomma La volevo prendere Anche per forza Perché se no Non posso evocare Il nuovo boss Il Wall of flesh Il muro di carne Perfetto Quindi ci vediamo dopo Eccoci qua ragazzi Allora vedete che Magari Oh Subito un demone Ma non sembra avere Con sé La voodoo doll Beh è peccato Comunque noi Le uccidiamo uguale Beh due demoni Già Buono dai Perfetto Allora Mettiamo un po' di torce Se ce l'ho Se ce l'ho Bene mettiamo allora Un po' di torce qui E Attiviamo La nuova Pozione Che abbiamo fatto Prima Ok Battle potion Vedete che non è Totalmente inutile Come si può pensare Alla fine Ok Battle potion Attivata Adesso mi attiveranno Si mi attiveranno Mi Compariranno Abbastanza nemici Almeno credo Infatti continuano Avvenire Eccoli qui Vediamo un po' A me adesso mi muovo Però un pochino Che dite Io certo se sto dentro Questa casa È un pochino più difficile Che arrivino Nemici Quindi mi dovrò muovere Un pochino Stando attento E non farmi colpire Perché se no Cado nella lava Caderò nella lava Perfetto Appena vedo un demone Con la voodoo dolly Mi ricordo una volta Lo vidi però Boh Non mi ricordo bene Oh cazzo cazzo Ok ci siamo Bene Ci siamo un pochino Un pochino fatto male Ma chi se ne frega Dove Dove siete Carissimi demoni No Tro Ok allora Night's Edge Eccoli qui Un demone senza voodoo Comunque è sempre un demone Vieni qua Muori Stronzo bastardo Perfetto Ok Silver coin data Riprendiamo la pozione Appena possiamo Appena Appena è possibile Prenderla Intanto ammazziamo qui Questi cosi Però non è possibile Prenderla Porca puttana Dai dai Ok perfetto Ripresa Vediamo un po' Era meglio se ci portavamo Una regeneration potion Non ce l'ho proprio Eh vabbè Chi se ne frega Bene allora Aspettiamo qua Ve lo ucciserò molto probabilmente Come ho detto il video Andiamo Verso di qua Non lo so Tanto i demoni Comunque dobbiamo trovarli Perché non è che vengono Sempre da noi Quindi dobbiamo trovarli Più delle volte Oh cazzo Un Un serpente Eccolo ragazzi L'ho trovato Merda se muoio ora Ok ragazzi Allora dovrebbe Quasi sicuramente Troppare una voodoo doll Eccola qua ragazzi Voodoo doll Eccola qua Finalmente l'ho trovata Voodoo doll La prima che trovo È stato davvero facile trovarla Non mi aspettavo di trovarla appunto così velocemente Torniamo immediatamente Prendiamo una pozione intanto Torniamo immediatamente nel mondo normale Eccola qua Ok allora Ricordatevi Quando trovate un demon con la voodoo doll Allora vi ricordo che è sempre meglio Che cazzo ho attivato questo Che è sempre meglio Utilizzare una battle potion Per aumentare lo spawn dei nemici È sempre meglio utilizzarla Quindi noi ce l'abbiamo ancora Quindi la possiamo disattivare La battle potion Eccola qua Cliccando il tasto destro Su di essa Sull'icona Sul buff Bene quindi abbiamo una voodoo doll La prima voodoo doll You're a terrible person Mi raccomando Ricordatevi di non ammazzare il demone Con la voodoo doll Se il demone si trova sopra la lava Perché se la rilascia la voodoo doll È come un oggetto Come se fosse un oggetto Come se voi la buttaste E quindi vi spawnerà automaticamente Il wall of flash Se non siete preparati Molto probabilmente vi farà il culo Quindi ragazzi State molto attenti per questo Ok Bene allora Io farò una piattaforma Almeno credo Che Diciamo Mi porti Ok perfetto ragazzi Non lo so che cavolo è successo Comunque dicevo Una piattaforma Che mi conduce All'incirca Da qui O forse un pochino più in là Ecco magari Queste case grosse Sarebbe meglio non bucarle Anche perché sono fatte Totalmente di hellstone Quindi se non ho Lo scheletrino Che tra l'altro Ho perso Insieme agli stivali Che molto probabilmente Mi devo rifare Oppure me le Riprenderò dai trucchi Perché l'ho persi Non è che l'ho persi Così credo che proprio il gioco Me l'abbia cancellato Magari per qualche bug Vedete che qui sono Delle case molto alte Tutte Sono molto alte Quindi sarebbe Molto difficile bucarle Io Partirei all'incirca Da qui Dove finisce questa casa qui E farei una piattaforma Lunghissima Che mi conduca All'incirca Fino Non lo so dove Fino A quest'altra casa rossa All'incirca qui Io qui dovrei Già aver battuto Il wall of flash Perché se no Sono nei casini Quindi Saranno Non lo so Quanti passi Ma credo molti Spero di farcela Davvero ragazzi La miniatura La piattaforma La faccio da solo Perché Può essere abbastanza Diciamo Noioso Farla Utilizzerò Allora Che pozioni Tra l'altro Utilizzerò Allora L'armatura Terrò questa Utilizzerò Di armi La space gun Che magari mi può servire Anche se mi consuma mano Non mi importa Perché utilizzerò Un oggetto ben specifico Il demo shite Può servire Anche se Tra l'altro L'hanno Come si dice Gli hanno Molto molto Diminuito la forza Adesso fa 40 danno magico Prima ne faceva molto di più Adesso fa 40 Nonostante io L'abbia potenziato Per cui Dovrebbe fare 34 Di default Poi utilizzerò Forse questo Perché è molto veloce Come vedete Poi Utilizzerò Il mini shark Guardate là Questo serve moltissimo Nella battaglia contro Il wall of flash Perché mettete Solo questo Può servire tantissimo Poi utilizzerò Anche lo slow Moltenfury Lo dovrò riforgiare Però perché slow Fa davvero cagare Utilizzerò Molto probabilmente Le jester's arrow Oppure le alfire Che non sono queste Sono molto forte Le alfire arrow Anche se Praticamente Non so se si possono usare Con quest'arco Perché quest'arco Trasforma Tutte le frecce In flaming arrow Quindi mi sembra Che utilizzerò Insomma le flaming arrow Non lo so Devo ancora decidere Poi allora Utilizzerò anche Delle bombe Ma delle granate Delle granate Utilizzerò davvero tanto Delle bin aid anche Utilizzerò comunque Delle granate Che comprerò Molto 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 Poi aqua chapter Questo qui non fa Praticamente niente Di danno Quindi non lo userò Mi manca qualche arma Magari Le prenderò Dal mio Dal mio appunto Dalla mia chest Contenente tutte le armi Vediamo un po' Che arma Che arma Possiamo utilizzare Allora Qui non c'è praticamente Niente Qui forse Nella chest di sotto C'è qualcos'altro Si Flower of fire Ecco Non è che fa molto Non mi convince Spreca molto mana Per cui Credo di no Armi tipo Spade E lancia Non serviranno Assolutamente a niente Queste Zellus Torch chakra Ormai non fa Tanto così Tanto danno Waterbolt No per carità Magic missile No perché Non mi piace molto Ecco L'arpone Sarebbe abbastanza Adeguato Ma comunque No Non lo utilizzerò Assolutamente Bene Qui Mythical No assolutamente Bene Io credo che Utilizzerò Queste armi qui Per quanto riguarda Le pozioni Allora Utilizzerò Come sempre La pozione No la gravity potion Potion Utilizzerò La thorn Forse Perché Nell'eventualità Che il nemico Mi colpisca Almeno io Li rifaccio Danno Perché è come se Avessi degli spini Infatti thorns Vuol dire proprio Spini Spino Spunte Non lo so Che cavolo Vuol dire Diciamo che Praticamente Quando un nemico Ti attacca Subisce danno Anche lui Come c'è scritto Appunto Nella descrizione Poi utilizzerò L'arcary potion Per l'arco La swiftness Potion Per muovermi Più velocemente In quella piattaforma Poi la lesser mana potion Non lo utilizzerò Utilizzerò Molto probabilmente La restoration potion O quella avanzata Oppure quella lesser Perché vedete Che quella avanzata Restora 100 di vita E 100 di mana Quindi fa un doppio effetto Quindi è molto molto buona Non credo che utilizzerò Dicione avevo pozioni Per cui Credo che mi posso utilizzare Queste benissimo Poi utilizzerò La Allora La 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 Non lo so Aspettate La shine potion Per farmi un pochino Più luce Anche se metterò Delle torce Via via Durante Nella piattaforma L'aeroskin Naturalmente Nell'eventualità Insomma Che mi attacchi La night hall Per farvi vedere meglio E poi basta ragazzi Credo che utilizzerò Queste pozioni qui Poi mi Metterò un oggetto Tra questi Molto probabilmente Caverò Il O L'hacky or shoo Che non serve Insomma Perché naturalmente Non è che cado Da distanze Da altezze così Consideribili Oppure questo Blizzardina balloon Non lo so Devo vedere un po' Naturalmente Forse questi qui Anche potrei cavare E mi faccio Aspettate un attimo Vado su vegetale Questo qui Armored Nature gift Ecco qua Adesso vi faccio vedere meglio Cosa serve Allora Praticamente Se noi lo Facciamo analizzare Dalla guida Cosa ci dice Che possiamo fare Questa mana flower Ovvero Riduce L'usaggio di mana E poi Automaticamente Utilizza le mana potion Quando servono E' una cosa davvero Pazzesca Quindi quando mi serve Il mana Se ho delle pozioni Di mana Appunto Me lo rifà Quindi Utilizzerò Anche questo qui Crafterò anche Questo mana flower Se proprio C'ho le pozioni Di mana Quelle che mi servono Ecco Ce ne ho solo una Allora Credo che si facciano Con le stelle Queste pozioni di mana Comunque voglio vedere Un attimo Come si fa Con la pozione Di mana avanzata Che serve appunto Per fare questo Mana flower Allora Vediamo un poco Eccola qua Con il glowing mushroom Però servono due Perfetto Va bene Non importa Allora La facciamo Vediamo un po' Dov'è Pozioni Sì Dovrei averci due glowing mushroom Almeno credo Spero davvero di sì Dai dai Ce l'ho Sì sì ce l'ho Abbastanza ce l'ho Perfetto Quindi Me ne serve una Ok Andiamo Dove andiamo Per craftarla Boh Forse qui Sì credo proprio di sì Ecco qua Mana potion E poi nella crafting table Ah no nel coso dove si uniscono gli oggetti Quindi nel tinkerer Almeno credo Se non ho sbagliato niente Dovrebbe comparire Ecco qua il mana flower Eccolo qui Vedete ragazzi Bene Questo qui Mi servirà moltissimo Farò anche delle appunto Pozioni di mana Sprecando un po' di stelle Ne farò circa una decina Però le farò Bene ragazzi Allora per questa Per questo episodio Diciamo preparativo È tutto Spero davvero nel prossimo episodio Di batterlo E di farcela Da Pipero Zorbet Ampipero Zorbet È tutto ragazzi Ricordatevi di iscrivervi Di commentare Di mettere un botto di mi piace Di condividere questo video Con gli amici Con tutti Quel che vi pare È tutto ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti